ciao a tutti bentornati ci troviamo qua con gran turismo per le nuove macchine che sono uscite e anche il resto dell'aggiornamento allora innanzitutto andiamo a vedere hanno inserito un'altra categoria ok la michelin è solo il museo si hanno aggiunto il museo i musei praticamente sono una raccolta di immagini dove c'è un po di tutto chiaramente questo è il museo michelin possiamo vedere la fabbrica cioè sono molto interessanti e devo dire sono certo da guardare con calma soprattutto perché hanno proprio tutte le spiegazioni e tutto però io voglio vedere le nuove macchine quindi la prima macchina che andremo a vedere è la chevrolet si la corvette stingray vediamola ah no questa è la camaro bella bello il camarone è bello certo certo che uso i crediti di gioco ne abbiamo un'altra che la stingray suppongo penso proprio di sì e questa costerà una fraccata di soldi 5 milioni però un bel macchinone vediamo che colore disponibile solo grigio classico la prossima macchina che andremo a vedere è la dojo super b del 70 un altro macchinone anche questo cioè un bel macchinone e di che colore lo possiamo prendere sto verde non si può proprio vedere l'altra macchina anche uscita è la ferrari 365 gt b4 del 71 belle poi ma le macchine così d'epoca mi piacciono sicuramente non me la posso permettere però possiamo andare sempre a vederla beh no ce la possiamo permettere e io direi quasi quasi di comprarla no 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 io i soldi li devo ottenere devo comprarmi la mark ok allora queste sono le macchine che sono uscite hanno aggiunto anche un nuovo hanno aggiunto anche un come si può chiamare eccolo qua tecniche un nuovo modo di fare fotografie con le gocce di pioggia dato che hanno messo la pioggia quindi ci sono ogni posto dove potete fare con le foto con la pioggia sembrerebbe una cagata però invece carina come idea secondo me molto carina invece poi per chi non le ha mai fatte le foto vi siete persi un quarto di gioco cioè molto 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 bello adesso vi faccio vedere tipo questo cioè voi potete posizionare la vostra macchina dove volete fare una foto ed ha proprio l'impressione reale perché sono fatte molto molto bene io con questo vi saluto se avete qualche domanda scrivete pure nei commenti che sono sempre disponibile vi ringrazio a tutti ciao ciao